Bentornati viandanti, io sono Federico Divino e vi do il benvenuto a questa terza lezione di Antropologia del Sema o Sematologia, in cui tratteremo finalmente il tanto complesso, e io già so che questa cosa mi gusterà moltissimo in termini di semplificazione, il tanto complesso termine di struttura o strutturalismo. Prima di iniziare però io mi sono segnato alcune cose che devo specificare, che devo approfondire rispetto alla lezione precedente riguardo i concetti di purezza e impurità, e questi sono sostanzialmente gli esiti nel mondo clinico, quindi quello che interessa a noi è fondamentalmente l'antropologia del pensiero medico o antropologia della salute e la psicoanalisi, gli esiti che insomma ho avuto in queste due discipline, o meglio per l'interesse di queste due discipline, l'esistenza di queste antinomie radicali che noi possiamo fare appunto tra il puro e l'impuro, cioè il sano e il malato, perché appunto se una cosa è pura, Mary Douglas fa notare che esiste una correlazione nettissima, vicinissima, tra l'impurità e il sacro, perché l'impurità è la condizione di separazione dal mondo del noto, che è il mondo puro, che è il mondo linguistico, il mondo del linguaggio articolato, e l'impurità invece è tutto ciò che rimane fuori e che da noi viene riconcepito come, quindi all'interno in realtà della nostra struttura linguistica, come ciò che non è concepito, ma che in realtà è concepito, e ciò che è separato, appunto sacro. Ciò che è sacro, Mary Douglas rivela antropologicamente, è impuro, ma ciò che è impuro nella nostra, diciamo, nel nostro schema di derivazione, a partire dalle antinomie fondamentali del linguistico e del non linguistico, ciò che è impuro è altresì malato, perché nella società che organizza tutto su schemi di ordine sociale, bisogna percepire, bisogna associare per forza la normalità, normalità nel senso sia di qualità di ciò che è norma, cioè ciò che è legge, la legge è ciò che viene stabilita da un punto di vista sociologico e giuridico, per mantenere, per permettere alla regola linguistica di reiterarsi, cioè alla stabilità del sistema sociale, di mantenersi in piedi, si emana la norma a tutela della società e facendo questo però, diciamo, si implica l'esistenza di una anomia, cioè di una anormalità. Pertanto, come dire, il linguistico, così come il linguistico presuppone in se stesso per potersi dire tale, l'ordinato presuppone in se stesso per potersi dire tale, il disordinato, dunque il linguistico presuppone, per potersi dire tale, il non linguistico, il sacro presuppone, in quanto non può esistere senza, il malato. Se vi ricordate la distinzione che abbiamo fatto forse alla prima lezione o alla lezione introduttiva, che è poi il fondamento della contraddizione del linguaggio, per cui se noi si dà un sistema linguistico ipotetico fatto da, costituito da soli tre segni, x, y e z, noi non si può astrarre x dal sistema linguistico e dire questo continua ad essere x, in quanto x esiste solo all'interno del sistema linguistico di relazioni tra i segni, per cui x è uguale a x solo se è non y, non zeta, allo stesso modo il linguaggio, cioè il sistema stesso, s, che ne so, noi non siamo matematici qua, per potersi dire sistema deve presupporre un suo antisistema, cioè un suo disordine di sistema, una sua, diciamo, la sua nemesi, cioè il suo disordine, il sistema è un suo ordine interno, ma si può dire tale se si contrappone al disordine presunto esterno, che lui stesso in qualche modo fonda, questa è una distinzione che il sistema stesso fonda, questo è il problema, e in questo ci, in questo rapporto giuridico e antropologico che c'è tra la norma e la anomia, risulta molto interessante l'opera di Giorgio Agamben, che qui rievuchiamo e che riguarda per esempio la condizione dell'uomo sacer, dell'uomo sacro, l'uomo separato. Cosa dice Agamben? Nel diritto romano arcaico la figura dell'uomo sacro è quella di un individuo che viene isolato dalla società e conciò privato dei suoi diritti stessi di essere umano. Qui interviene un discorso biologico, l'uomo sacro è in sintesi colui che viene, diciamo, viene isolato dalla società, cioè buttato fuori, a cui viene revocato uno stato che Agamben definisce bios, l'essere umano in quanto animale sociale, zone politico è appunto un animale, zoe, ma in questa sua condizione di animalità l'essere umano ancora non sperimenta l'ordine sociale, ma il suo essere zoe e zone politico lo rende anche più di un semplice zoe. L'essere umano fonda attorno a sé una comunità sociale, la struttura sulla base di una serie di leggi linguistico-normative e così facendo dona a se stesso e ai suoi simili un diritto in più, una condizione nuova. Quella di zoe era appunto di nuda vita, di essere umano gettato nel sacro, nel prelinguistico, poi interviene il linguistico e l'essere umano acquisisce diritto politico. Politico che vuol dire? Diritto di socialità, diritto di socializzazione, diritto di esistere all'interno di una rete sociale, questo è bios. L'uomo sacro viene in qualche modo privato di questo diritto. Però, questo è il paradosso, non può essere sacrificato in quanto impuro, in quanto già reso sacro dalla sua esclusione sociale. Il sacrificium invece è sacer facio, è rendo sacro. Tuttavia, chiunque dovesse uccidere l'uomo sacer, l'uomo sacro, non sarà considerato colpevole di omicidio, in quanto quello non è più un uomo, perché l'uomo, in quanto umano, usiamo il termine umano che è meglio, l'umano è tale solo all'interno della sua rete di costruzioni sociali, in quanto bios, se viene ridotto a zoe, è una bestia, tra virgolette. Qua si potrebbe aprire un capitolo interessante di analisi su come noi appunto trattiamo gli animali, in quanto noi non gli riconosciamo, ma questo è un problema nostro di cognizione antropologica, noi non riconosciamo agli animali diritti, li riconosciamo agli esseri umani, che però biologicamente sono animali. Quindi noi animali ci eleviamo sugli altri animali e ci diamo in qualche modo un'identità con più diritti, animali. Il che va benissimo, perché noi siamo onnipotenti all'interno della nostra arbitrarietà di strutturazione linguistico, social, cognitivo, psichica. Però la riflessione che potremmo fare è che interessante, e che è anche interessante da un punto di vista antropologico, è che noi non riconosciamo questo stesso diritto ad altri animali. Ma al di là di questo, su cui si potrebbe dire tanto, ma non fa parte del corso che ho strutturato, al di là di questo volevo darvi un'altra nozione prima di procedere con la questione dello strutturalismo, e cioè il rapporto che c'è tra uomo sacro e uomo malato. Perché se la sacralità è l'impuro e l'impuro è il malato, l'uomo sacro è l'anormale. Non è solo, certo, nasce come quella figura all'interno del diritto romano a cui si revoca la condizione di cittadinanza in qualche modo, ma è anche l'uomo anormale. Gli anormali sono infatti in qualche modo isolati, espulsi dalla società. Tuttavia questa loro condizione di eccezione li rende anche temuti, sono impuri, sono malati. Si ritiene infatti che la loro anomia, la loro anormalità, sia dovuta ad un intervento del sacro, che dunque una sorta di potenza divina, almeno questa nella concezione passata, ma oggi la potenza divina è sostituita dalla malattia, dalla sciagura, dalla cosa che mi ha detto male, ma è toccato il malanno, no? Eh, ma quello poverino è impazzito. E in passato era il dono, tra virgolette, il dono che gli dèi, che a loro volta erano una rappresentazione della follia, davano a certi individui. E sempre per citare Agamben, esiste un'ambivalenza del sacro. E questa teoria dell'ambivalenza del sacro, diciamo, nasce all'interno dell'antropologia, e Agamben fa riferimento all'essay sur le sacrifice di Hubert e Moss, Marcel Moss, e che parla del carattere ambiguo di ciò che è sacro. E Agamben fa anche riferimento alla folk psychologie, alla psicologia popolare, folk è in qualche modo una sorta di etnopsicologia delle origini, di cui parla Wundt, che appunto vuole studiare la psicologia umana attraverso la psicologia. Questo è l'aspetto folk, all'aspetto folk. E secondo appunto questa teoria di Wundt, il sacro e l'impuro caratterizzerebbero delle fasi estremamente arcaiche della storia umana. E chiaramente poi anche Sigmund Freud è stato fortemente influenzato da queste teorie. Freud aveva letto un saggio di Carla Abel sul senso contraddittorio delle parole originarie e ne aveva, diciamo, ne aveva tratto delle conseguenze, delle riflessioni interessantissime per la psicoanalisi. ma questo è sostanzialmente una parte, diciamo, di approfondimento rispetto alla lezione precedente e che però già ci fa intuire appunto che cos'è la struttura. O meglio, ci pone delle riflessioni da fare. La struttura è quella cosa che sta dentro, cioè che sta internamente alla dimensione linguistica che costruisce, potremmo dire, un mondo all'insegna dell'arbitrarietà, dell'attribuzione semantica, di identità, oppure la struttura è qualcosa che permea, come in qualche modo ha detto Severino quando scrisse la struttura originaria, l'idea di Severino di una struttura originaria è quella di una struttura che permea ogni aspetto e che è essa stessa ogni cosa. ed è l'esser sé delle cose, quindi include magari in se stessa anche una sorta di costruzione cognitiva che però è comunque interna all'unico mondo possibile e che viene certamente reinterpretato dalle nostre cognizioni, ma che è già struttura. C'è dunque una sorta di struttura linguistica interna e una struttura reale che non è né interna né esterna, ma che è onnipervadente. Questa è già una prima domanda che dovremmo farci. Certo non pensavano a questo i linguisti, non pensava a questo nemmeno Sussure, perché in realtà Sussure non usa nemmeno, nonostante la linguistica di Sussure sia, la linguistica generale, sia effettivamente definita come linguistica strutturale, Sussure non utilizzo mai questo termine in quanto lui prediligeva il concetto, l'idea di sistema. Si inizia ad usare il concetto di struttura a partire dalla formulazione delle tesi di Praga, che elaborano anche l'idea di funzioni linguistiche, o meglio quella di l'idea di linguaggio come insieme di funzioni. E questo quindi in realtà... Certo, Sussure non utilizzava il termine struttura, ma effettivamente parlava di sistema, la differenza è poca, ma il termine struttura sarà utilizzato non solo dai linguisti preghesi, in particolare Jacobson. Ma poi Jacobson affascinerà tantissimo il mondo antropologico e l'antropologia di Lévi-Strauss, che appunto si definirà antropologia strutturale e che secondo me non può essere una vera antropologia strutturale, nel senso che Lévi-Strauss aveva frainteso tanto il termine struttura quanto quello di inconscio. Certamente i più pignoli ci hanno riempito questa stanza di saggi per cercare di spiegare per quale motivo l'inconscio di Lévi-Strauss non è l'inconscio freudiano. Noi non siamo così pignoli anche perché crediamo che Lévi-Strauss non fosse così idiota, ma Lévi-Strauss voleva semmai... Certo, Lévi-Strauss stesso pone una distanza tra la sua idea di inconscio e quella di Freud, ma in qualche modo il concetto di base è sempre presente. L'errore di Lévi-Strauss è stato semmai quello di voler fondare una antropologia scientifica. Ciò che a Lévi-Strauss affascinava della linguistica jacobsoniana era il suo essere rigorosa, non il suo essere strutturale. Lévi-Strauss in qualche modo metteva in relazione la strutturalità, lo strutturalismo jacobsoniano con la scientificità. In realtà nulla di ciò che è umano può essere scientifico, in quanto la scienza rigorosa è la scienza della ripetibilità, è la scienza dell'oggettività, mentre l'essere umano è un essere soggettivo. Non si può studiare un soggetto come se fosse un oggetto. Per studiare i soggetti ci vogliono strumenti diversi che l'oggettività e la scienza oggettiva non possono fornire, pertanto in realtà nemmeno il linguaggio può essere studiato scientificamente, in quanto il linguaggio è un prodotto umano, deve essere studiato antropologicamente, ma nel senso dell'antropologia fenomenologica moderna, dell'antropologia che è derivata, che è nata successivamente alla svolta ontologica, alla svolta ermeneutica, alla mettere al primo posto l'interpretazione e non la ricerca di schemi, di pattern, di elementi riconoscibili che si ripetono. Si possono ovviamente trovare degli elementi di ripetibilità, delle tendenze comuni agli esseri umani. Io sono fermamente convinto che gli esseri umani siano esseri umani ovunque, pertanto cedere ad un eccessivo relativismo antropologico mi sembra scorretto, perché l'essere umano è essere umano qui come lo è dall'altra parte del mondo. Certo, poi l'arbitrarietà interviene, ma lo stesso fatto di poter far ricorso all'arbitrarietà è un fatto umano, universalmente condiviso da tutti gli esseri umani, come è universalmente condiviso, il linguaggio. Poi esistono miliardi di linguaggi diversi, ma ciò non significa, o meglio, miliardi anche di linguaggi possibili, ma ciò non significa che essi non siano linguaggi, ed è comune a tutti gli esseri umani avere il linguaggio. Dunque è possibile molto probabilmente rinvenire e rilevare una struttura linguistica universale, ma da essa non si può prevedere con certezza ogni linguaggio possibile. Essa deve prevedere in sé la infinita possibilità di produzione linguistica, l'infinita produttività. Allora in quel caso sì, ma non può essere uno strutturalismo oggettivo. La linguistica, come l'antropologia, come la psicoanalisi, non possono essere scienze oggettive, perché se fossero oggettive non funzionerebbero, non saprebbero parlare dell'essere umano, parlerebbero di altro, parlerebbero di concetti arbitrariamente intesi in modo oggettivo ed universalistico che però non hanno niente a che vedere con l'essere umano, farebbero studi sulla, diciamo, su facoltà, che hanno poi, diciamo, preventivamente definito con termini tecnici, ma a noi non ce ne importa niente. Quello non è l'essere umano, quelle sono definizioni così. Pertanto la struttura, come può essere definita? Può essere definita in un modo che io vi propongo. Come elemento di interconnessione reciproca all'interno della quale ogni elemento del sistema rimanda a tutti gli altri elementi del sistema ai quali si oppone. Ciò significa che in realtà gli elementi, che sono un modo nostro di intendere una parte del sistema, sono essi stessi il sistema. L'idea di struttura che voglio cercare di darvi in queste lezioni, che ho cercato di definire nel saggio senso dell'antropologia, è l'idea di una struttura olografica. Non è l'idea di una struttura meccanica, fatta di pezzi, fatti di ingranaggi. È ologramma, olos, grafos. Quindi ogni elemento della struttura è in realtà un aspetto della struttura che, per essere concepito come tale, deve prevedere in sé stesso l'intera struttura, l'interezza, la totalità della struttura stessa, in quanto già la prevede in sé come opposizione. Appunto x prevede in sé, in quanto appartenente al sistema S composto da x, y e z, x per essere x prevede in sé stesso, la negazione, o meglio l'opposizione, x non può negare, y e z continuano ad esistere, ma deve opporsi ad essi. Quindi prevedendo in sé l'opposizione ad y e z prevede in sé tutto il sistema, opponendovisi, opponendovisi, diciamo, opponendosi a certe parti del sistema. Ma questo vale per ogni elemento del sistema, ergo non esistono veri e propri elementi del sistema, esistono aspetti del sistema, essenze del sistema. Dunque la struttura e il sistema, che appunto il termine sistema era quello utilizzato da Sussur all'inizio nella sua linguistica, sono la stessa cosa. Questa è l'idea che cerco di veicolare all'interno di questi, di questo, diciamo, corso. Poi ovviamente io adesso vi citerò alcuni elementi, per concludere, che riguardano aspetti dell'antropologia strutturale di Lévi-Straud, che sono ripresi dal saggio di Marina de Palo, su Sussurre e gli strutturalismi, e che appunto ci spiega come la linguistica ha influenzato l'antropologia. Quando la linguistica entra nell'antropologia si passa dallo studio dei fenomeni linguistici coscienti a quello della loro infrastruttura inconscia. Attenzione all'uso del termine infrastruttura. È infrastruttura inconscia. Inconscio è un termine preesistente alla psicoanalisi, ma è un termine che dalla psicoanalisi in poi è un termine meramente psicoanalitico. E vedremo più avanti perché. Io già mi immagino, no, l'inconscio di Lévi-Straud non è l'inconscio di Freud, né in realtà da Freud in poi ci sono riletture dell'inconscio freudiano che sono ampliamenti funzionali dell'inconscio freudiano. Non è detto che se Lévi-Straud propone una teoria diversa dell'inconscio questa sia incompatibile con l'idea freudiana di inconscio, semmai la integrerà. Questo almeno è l'aspetto della questione che voglio avanzare io. L'altra cosa più importante che dobbiamo far presente è che l'antropologia strutturale come la linguistica rifiuta di trattare i termini, tra virgolette parole, ma anche gli elementi di un sistema culturale e sociale come entità indipendenti, prendendo come base dell'analisi le relazioni tra i termini. Ricordatevi l'idea che vi ho dato prima di struttura come funzione, come sistema, rete. Tutti i nodi della rete fanno parte della rete, sono la rete stessa. I nodi sarebbero gli incroci in cui appunto le maglie, in qualche modo anche di un tessuto. E terzo aspetto della questione, questa antropologia strutturale introduce la nozione di sistema appunto, ed infine quarto aspetto, tende a scoprire leggi generali, tendenze generali, non leggi universali, oggettive, scientifiche, tra virgolette, che si trovano sia per induzione sia per deduzione logica. Detto questo, io vi saluto qui perché siamo già a 25 minuti. Come al solito vi rimando al saggio in descrizione Senso dell'antropologia, che è il testo base di questo corso. Vi invito a consultarlo se siete interessati a maggiori approfondimenti bibliografici, metodologici e anche contenutistici, perché in queste lezioni non potrò dire tutto. Vi invito ad iscrivervi per rimanere aggiornati sulle pubblicazioni dei video e vi saluto, vi rimando alla prossima lezione di senatologia.